Sto facendo degli accendini, accendini elettronici, sui quali ci sarà scritto Continuo a fumare, grazie. Quando tolsero la scorta a Saviano, caro Saviano, non vorremmo mai essere noi a scortarti. Abbiamo seppellito molte valattie, vaccinatevi, non siamo pronti a gestire un'epidemia. C'è stato il family day, qualunque sia la tua famiglia c'è una cosa che ci renderà tutti uguali. Un'ora dopo! Questa è la mia storia, la storia della mia famiglia e ancora qui i miei figli sanno che io andrò qua dentro, quando sarà. Ma facciamo un passo indietro. Come ti chiami? Giacomo, Taffo. Taffo come? Come onoranze funebri, Taffo. Siamo, prego. Dove sono? Adesso ti trovi all'ingresso, se andiamo un pochettino più avanti c'è lo showroom con tutte le nostre bare esposte, di là c'è il magazzino, quindi se vuoi ti faccio fare un giro. Chi viene qui? Qui vengono persone che subiscono un lutto, a parte anche qualche amico che viene a trovarmi, quello capita. Quella è una cappella cimiteriale, sì, alla fine è una casetta a tutti gli effetti. E costa quanto una casetta? No, costa molto meno. Però ci dormi per sempre, quindi va fatta bene, sui 20-25 mila euro. Ci mettiamo a sedere da qualche parte? Prego. Mi racconti i passaggi da quando una persona subisce un lutto? Noi veniamo contattati, diamo in abitazione, la toilettatura della salma, la vestizione, la preparazione della camera ardente. Una delle cose che a me è brutto dirlo, ma fa un po' più senso, è la parte della pulizia. Me la racconti un po'? Perché secondo me fanno paura soprattutto le cose quando non si conoscono poi bene. Noi utilizziamo un recipiente d'acqua tiepida, con del sapone, una spugna, tutto qua, è semplicissimo. Tranne qualche spiacevole inconveniente che spesso capita, però fa parte del mestiere. Cioè, tipo? Tipo che si fanno sotto. Avete degli orari di apertura? Sì, però in realtà noi veniamo contattati giorno, notte, Natale, Pasqua, Capodanno, indistintamente, e appena veniamo contattati andiamo a svolgere il lavoro. Perciò anche in una situazione familiare, cioè ti può squillare? Sì, anche mentre sto mangiando, mentre sto dormendo, mentre sto facendo altro sotto le lenzuola, in qualsiasi momento. E te come la vivi? Eh, come la vivo, è dura. Sarà felice la moglie? Infatti mi fa due coglioni. Sì. Quanto ti c'è voluto per abituarsi? Per me non c'è stato l'impatto di vedere un morto, di toccarlo. Io quando ero bambino giocavo in mezzo alle bare, no? Che c'era il magazzino, io stavo là con mio padre e mia madre. Sono nato in una famiglia che fa questo da una vita. Questa è un'attività che si tramanda. È raro trovare una persona che di punto in bianco apre una ditta di onoranza e funebri ad oggi, perché è una cosa che succedeva ai tempi quando i falegnami si trovavano a un bivio. Il mio bisnonno ha cominciato facendo il falegname, doveva costruire la bara. È diventato naturalmente un impresario funebre. Perché secondo te è difficile che oggi uno... Perché di fatto la morte è un tabù, quindi intraprendere un'attività nelle oranze funebri significa in un certo senso andargli incontro alla morte. Hai paura? Sì, la temo. Ho paura della morte. Pensavo mi dicessi no, perché l'ho vista tante volte. Questa cosa non mi sento di potertela dire. Poi da quando sono diventato papà, ancora di più. Posso venire? Posso venire. Faccio un passo indietro. Voi chiamate Salma o cadavere? Voi sapete come lo chiamiamo noi? Il morto. Sì. Posso vedere come è fatta una bara? Certo. Dall'esterno o dall'interno? Pesa. Eh sì, pesantino. Così com'è può andare sottoterra. Tu sei mai entrato dentro una bara? Sì, però dico lo che non si fa. Però l'ho fatto. Le persone chiedono di mettere qualcosa dentro? Cose più disparate. Soldi, pane, carte, sigarette, cappelli, bastoni. Soldi spiccioli è per il pagamento del pedaggio? Sì, allora il pane è per le fiere che trovi alle porte dell'aldilà. I soldi per pagare il pedaggio a caronte che ti porta dall'altro lato. Ti è mai capitato un cellulare carico? Per poter avere un contatto dall'aldilà? No, questo ancora non mi è capitato. Più che dall'aldilà nel caso in cui uno si svegliasse. Uno si svegliasse. Ah sì, perché c'è questa fobia. Credo si chiami tafofobia perché devi sapere che la parola taffo deriva dal greco tafos, che vuol dire tomba, sepoltura. Infatti ad esempio la parola epitaffio significa sulla tomba. Epitafos. Non ti è mai capitato di lavare qualcuno e questo si risvegliasse? No, è capitato a mio zio però. Ci fu una chiamata per un decesso in una clinica psichiatrica. Andarono lì per vestirlo e a un certo punto si è svegliato. Ma perché? La persona che non stava molto bene di testa si era sostituito al defunto. Merchiosamente, questa roba è questa. Qui non conservate? No. Una notte o al massimo un giorno, in attesa che poi ecco tipo il ragazzo pakistano che è qua in attesa dell'autorizzazione del biglietto aereo. Lui è qua. Lui è qua. Posso vederlo? Sì, stai qua. Quali sono gli stereotipi che ti danno più fastidio? Una cosa che mi dà molto fastidio è quando noi passiamo con il carro funebre e qualcuno fa gli scongiuri. Tocca i gioielli di famiglia, fa le corna. Quello mi dà fastidio, ma non tanto per me perché a me non interessa. Mi dà fastidio per i familiari che sono dietro al carro funebre e che vedono un gesto del genere. Quindi mi immedesimo e immagino che ci rimangano male. Questo mi dà molto fastidio. Ti porto a conoscere mio papà. Prego, accomodati. Ho delle domande che mi sono scritto. Prego. Vedo la difficoltà nel provare a staccarsi quando uno torna a casa. È una bischerata, lei l'ha mai vissuta. Io mi sono abituato fino a un certo punto, ti dico la verità Saverio, ti posso fare una confessione io da Aquilano. Purtroppo l'Aquila ha vissuto un evento disastroso. Adesso lo vivo questo mestiere non più da professionista, ecco perché mi faccio aiutare dai figli. Vuol dire che ogni tanto sei commosso anche lei? Assolutamente sì. Riesco anche a fare follie pur di accontentare una mamma, ecco. Entro proprio nello specifico. Io una volta ho annullato due ore dal funerale il servizio stesso. Mi ha detto la mamma voglio stare con mio figlio un giorno in più, io esco fuori e annullo tutto. Rimando tutto il giorno dopo. Tecnicamente è una follia imprenditoriale. Non va bene, ecco quello che voglio dirti, interpretare così. Secondo lei, com'è venuta a Giacomo quell'idea di comunicazione? Lo dico fuori dalle righe, anche per lui non c'è. Io forse uno sbaglio l'ho fatto nella vita, dettato anche dal voler bene anche a questo settore. E' in quel momento storico della nostra città. Io ho preso mio figlio, l'ho messo dentro un furgone per 4-5 giorni la nostra città e vedere le cose più orribili che possono accadere in questo settore. E io ho questa idea che la confesso oggi a te. Giacomo da quel momento credo che ha cominciato a scherzare con la morte. Io ti ho visto, come per dire io ti ho visto, ti ho vissuto e adesso con molto rispetto ti prendo per il culo. Ho una curiosità, lei ha visto tanti funerali, ha mai pensato al suo? Sì, l'ho pensato e se vuoi ti faccio vedere anche la bara che ho intenzione di dare perché è una bara presa da nonno. E canzone? Ho in mente liberi liberi di Vasco. Wow! Vasco. Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato. Valter Chiari